Il piacere di intervenire in questo seminario, quindi è un seminario molto ricco di interventi e relazioni. Il tema è anche un tema complesso perché, che cos'è questo? Verso le lezioni europee è il titolo del ciclo di seminari. Il titolo è l'Unione Europea tra transizione ecologica e transizione energetica. Quindi mette in connessione due tipi di transizioni che sono in atto nel nostro ordinamento e sono potenziati dal Piano Nazionale di Resilienza e Ricostruzione, il PNRR. Quindi sono due argomenti molto intriganti perché cercano di progettare per il futuro una società più giusta, più rispettosa della tutela dell'ambiente, ma anche rispettosa di una programmazione energetica necessaria anche per l'evoluzione della nostra economia. Allora, come voi sapete, mettiamo prima a confronto le due transizioni, la transizione ecologica e poi anche la transizione energetica, compresa la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. Ora, la politica energetica sappiamo di che cosa si occupa? Si occupa dell'approvvigionamento dell'energia in funzione dell'economia, quindi il supporto all'economia e alla vita di tutti i cittadini. Ed è attualmente entrata in connessione con la politica climatica, cioè la politica di contrasto alle patologie del clima, alle inondazioni, ai grossi mutamenti climatici, che si vogliono imputare al riscaldamento terrestre dovute alle emissioni dannose a carico del clima. Quindi la tesi accolta ormai dall'incontro della conferenza di Rio è che i combustibili fossili, l'uso dei combustibili fossili alla base della nostra economia, del nostro modo di vivere, hanno creato questi mutamenti molto dannosi del clima con alluvioni, frane, cataclismi, eccetera, eccetera, che sono un costo di vite e di danni per l'economia di tutti i settori. Ora, cosa si vuole fare? Si vorrebbe sostituire le fonti di energia tradizionali con le fonti rinnovabili di energia. fotovoltaico, solare, quindi poi eolico e poi geotermico e questo per comprimere l'energia prodotta con i fossili, con i materi fossili. Ora, mentre la transizione energetica viene, diciamo, gestita dagli stati, quindi dalle nazioni, la transizione ecologica e quindi la tutela dell'ambiente, eccetera, viene gestita per lo più dalle, dagli stati. Sono gli stati che devono provvedere, che devono andare incontro e che devono evitare queste catastrofi climatiche. E mi fa anche rabbia sapere che ci sono delle regioni che hanno avuto dei fondi in passato per il settore idrogeologico e hanno avuto nelle loro territori grossi cataclismi idrogeologici senza che questi fondi fossero stati impegnati. Quindi anche non è solo una questione di mancanza di fondi, ma anche una mancanza di sapere amministrare o non volere amministrare nell'interesse dei cittadini e dell'economia. Allora, la politica climatica viene gestita, ma non si può dire gestita, viene presa in esame sia a livello internazionale, sia a livello di Unione Europea. E ricordiamo tutti com'è nata questa attenzione per l'ambiente, per il modo di evitare dei disastri climatici. E' nata all'attenzione nella Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio tra 170 capi di Stato o di governo nel 1992. Questa conferenza di Rio aveva proprio a oggetto la tutela dell'ambiente e le disuguaglianze economiche dei vari territori. Successivamente nel 1997 abbiamo il protocollo di Chioto. E' importante perché? Perché in questa riunione l'Unione Europea ha preso in mano le redini del progetto, le redini della politica da attuare. Quindi è stato, diciamo, un bel successo per l'Unione Europea. Anche se le politiche energetiche rimanevano sempre nelle mani degli Stati. Quindi più di tanto non poteva fare l'Unione Europea. Quando noi diciamo che dobbiamo adeguarci alle istituzioni internazionali, non possiamo dire che il clima sia nelle mani delle istituzioni internazionali, perché non è difficile parlare di competenze internazionali. Riunioni, sì, sollecitazioni, direttive, indirizzi, eccetera, però non c'è quella precettività tipica dei sistemi nazionali o del sistema Unione Europea. Negli anni Chioto è importante perché appunto l'Unione ha preso questo ruolo direttivo nella cooperazione in ambito climatico e si sono stabiliti dei limiti per stabilizzare le emissioni energetiche negative entro il 2000. Tema che è stato ripreso, oggi si devono ridurre le emissioni del 55% rispetto ai valori del 90% entro il 2030, cosa che non si sa se raggiungeremo mai. Nel 2019 un altro evento molto importante, perché il Presidente della Commissione von der Leyen ha presentato al Parlamento Europeo un progetto di Green Deal, di nuovi interventi europei in materia di tutela ambientale. Questo progetto è stato fatto proprio dal Parlamento Europeo, è stato adottato sia dal Parlamento e approvato dal Consiglio e quindi in tutto questo sostanzialmente si prevede delle direttive per migliorare l'integrazione delle reti e dei mercati energetici. Dal 2013, dal 2015, naturalmente le reti, le politiche nazionali degli obiettivi climatici e dell'Unione Europea sono arrivate a un coordinamento, un sistema di coordinamento delle politiche nazionali, tanto farei parlare di Energy Union. Quali sono i punti presi in considerazione dall'Unione Europea? La sicurezza energetica, l'integrazione del mercato interno dell'energia, l'efficienza energetica, la ricerca e l'innovazione, quindi il potenziamento di ricerca e innovazione in questo settore e come obiettivo la decarbonizzazione dei territori, cioè ridurre al minimo l'uso del carbone, il cui sfruttamento produce energia carbonica, che crea grossissimi danni all'ambiente. Ora, si parlava anche di un carbon pricing, però è troppo lungo, non si può spiegare in questo momento, magari non ci torniamo, e bisogna in un certo senso eliminare il più possibile le combustioni che contribuiscono all'inquinamento e al cambiamento ambientale. Ma io mi domando, pensiamo solo ai carboni, questo non c'entra con quello che dice l'Europa, ci limitiamo solamente a pensare all'uso dei combustibili fossili, non pensiamo all'inquinamento prodotto dalle guerre, che ci sono vicine tra l'altro, i bombardamenti, sia bombardamenti aerei, sia attraverso droni, gli incendi, le devastazioni, che tipo di inquinamento producono, oltre al danno umano di centinaia di migliaia di vittime? Non è che l'inquinamento rimane sopra l'Ucraina o sopra la striscia di Gada, l'inquinamento si sposta, cioè la massa di inquinamento contamina tutta l'atmosfera, quindi non possiamo pensare che solo eliminando un certo tipo di automobili o altri tipi di prodotti che usano combustibili fossili, sparisce l'inquinamento, perché bisognerebbe anche prendere coscienza di altri tipi di inquinamento che ci sono e di cui nessuno parla, perché l'ultimo problema è veramente l'inquinamento di queste situazioni, perché ci muoiono centinaia di migliaia di persone, ma oltre a questo danno umano gravissimo c'è anche il danno atmosferico che permane nell'atmosfera e ci otteniamo per le prossime generazioni. Ora io ho un panel molto ricco e vorrei cominciare da un argomento che per me è nuovo, però l'ho letto stamattina in treno, per cui ringrazio il nostro collega di Milano, professor Marco Rofino, che insegna diritto costituzionale e diritto pubblico, tutte e due. Il diritto costituzionale e il diritto dei dati. Il diritto dei dati, perché è difficile ancora in questo Ateneo, a cui darei la parola, perché lui parla di questo argomento molto interessante, che è la tutela dell'ambiente come principio occasione della transizione digitale e della costruzione della società digitale, perché ho scoperto leggendo che in effetti il digitale brucia più energia di tante altre attività creando dei problemi di cui nessuno parla, perché lo sviluppo del digitale, la società digitale, l'evoluzione del digitale, in realtà nessuno pensa che magari un nostro sms brucia energia. Prego Marco, dà te la parola. Grazie a te. Allora, io ringrazio la professoressa Bilancia che mi invita molto spesso e spero finalmente di aver imparato una cosa importante di questi nostri incontri, di essere breve, non eccessivamente tecnico, per lasciare poi dei messaggi che possano aiutare il dibattito. Allora, il mio contributo appunto ad oggetto, come detto dalla professoressa Bilancia, la tutela dell'ambiente nella costruzione della società digitale e quindi esamina il rapporto tra le due transizioni su cui l'Europa sta puntando, la transizione green e la transizione digitale. Ora, come anticipato dalla professoressa, gli studiosi del tema hanno per lo più messo in luce e si sono concentrati sull'impatto positivo che la transizione digitale può avere per l'ambiente. Alcuni esempi li possiamo fare, tanti altri li potreste trovare da solo, ma immaginiamo i sistemi di monitoraggio e controllo a distanza degli edifici e quindi degli impianti di raffreddamento l'inverno e di climatizzazione l'estate, oppure la possibilità attraverso l'uso di algoritmi per la gestione del traffico, facendo scattare il semaforo e riprogrammandolo nel corso della giornata che riduce chiaramente i chilometri percorsi, i tempi di attesa e le emissioni di gas nocivi, oppure l'utilizzo di droni e sensori per l'irrigazione della campagna. Quindi è indubbio che la transizione digitale comporti dei vantaggi per l'ambiente. A fronte di tutto questo, però, da pochi anni, soprattutto nella dottrina americana, si è avanzata un'altra ipotesi, o meglio, un'ipotesi complementare. Si è iniziato a dire ma siamo così sicuri che la transizione digitale sia sempre e comunque un volano per la tutela dell'ambiente? Oppure questo assioma di partenza può essere messo in qualche modo in discussione? Gli studiosi che si sono occupati del tema hanno portato alcuni esempi. Hanno detto, ad esempio, che già da anni noi sappiamo che i data center, i luoghi fisici in cui si trovano i server, consumano una quantità enorme di energia, sia per il funzionamento dei server, sia per il raffreddamento. Tant'è che le grandi società che ha bisogno di questi server non hanno mai pensato seriamente di portarli nei paesi più caldi, nonostante potrebbero godere di vacanze regolatorie importanti. E quindi li hanno sempre mantenuti al fresco perché più l'ambiente circostante è caldo, più i costi energetici salgono. Questo noi lo sappiamo da un decennio, però c'è qualcosa di nuovo che abbiamo scoperto più recentemente. Ad esempio, abbiamo scoperto che le applicazioni di blockchain, in particolare i bitcoin, i soli bitcoin, necessitano ogni anno di una quantità di energia a 130 terawatt ora che sono pari a quanto necessita la Svezia, che non è una nazione che necessita di poca energia, soprattutto considerando i lunghi inverni in cui l'energia è fondamentale anche nelle ore diurne. Certo, hanno anche le lunghe stati, però detto questo, che i bitcoin consumino quanto la Svezia è secondo me un dato impressionante. Lo stesso possiamo, lo stesso ragionamento si è fatto con le smart cities. Le smart cities oltre a consumare molta energia consumano molti device, molti sensori che hanno bisogno di essere cambiati e sono spesso sensori che al loro interno hanno dei microchip con dei metalli che sono costosi per l'estrazione e fortemente inquinanti nel momento in cui vengono smaltiti. Dati altrettanto significativi sono quelli che riguardano il nostro utilizzo individuale delle nuove tecnologie. Noi abbiamo avuto in questi anni l'impressione che le email che inviamo, i messaggi whatsapp, i post che scriviamo sui social network fossero da un punto di vista ambientale gratuiti e che anzi non inviando più la posta la corrispondenza ci guadagnassimo qualcosa. In realtà se noi sommiamo il costo infinitesimale del singolo messaggio per il numero di interazioni che noi abbiamo attraverso questi strumenti ci rendiamo conto che invece i costi sono molto significativi e tutto ciò si traduce quindi in un rilascio di grandi quantità di CO2 perché la CO2 la produciamo per trasformare i combustibili in energia. Poi abbiamo il problema dei metalli rari che abbiamo dentro il nostro smartphone dentro tutti i device che noi quotidianamente utilizziamo che sono soggetti a un'obsolescenza talvolta pure programmata che li rende in pochi anni inservibili o comunque non più graditi al pubblico. Ora tutto ciò diciamo è qualcosa che noi rispetto è una è qualcosa rispetto a cui noi abbiamo già dati scientifici certi abbiamo però anche previsioni rispetto all'impatto che avrà l'intelligenza artificiale e queste previsioni non sono previsioni a lungo termine ma sono previsioni nell'arco del prossimo quinquennio si immagina che secondo un rapporto dell'International Energy Agency si immagina che il fabbisogno potrebbe quintuplicare rispetto a quello attuale il fabbisogno dei data center da cui i software di intelligenza artificiale traggono i dati per loro necessari per comprendere la scala del fenomeno pensate che il rapporto tra una richiesta su Google e una richiesta chat GPT è uno a nove quindi una richiesta chat GPT ha un costo di energia elettrica che è nove volte la medesima richiesta a Google questo perché perché evidentemente il processore del software di intelligenza artificiale è molto più potente deve macinare una mole di dati molto più ampia e dunque i costi di esercizio sono più significativi allora di fronte a scenari di questo tipo quindi noi dobbiamo ripensare la sioma per cui transizione digitale uguale transizione green senza però correre il rischio di fare due errori quali sono i due errori che potremmo fare il primo errore sarebbe quello di dire ma allora se la transizione digitale è dannosa per l'ambiente noi ci rinunciamo perché naturalmente questo è è una sarebbe una posizione del tutto sciocca e antistorica poiché viviamo in un contesto in cui lo sviluppo delle nostre comunità dipende dallo sviluppo digitale delle nostre eh dei nostri delle nostre comunità oppure all'opposto dire facciamo la somma analisi costi e decidiamo cosa fare in realtà questi sono due errori a mio modo di vedere perché la strada da seguire sarà quella di valutare i singoli prodotti e i singoli processi verificando quanto i singoli prodotti digitali e i singoli processi digitali impattino sull'ambiente pensando poi degli ure condendo un sistema di incentivi o disincentivi anche all'utilizzo delle tecnologie digitali ora questo è il contesto rispetto a un contesto di questo tipo noi dobbiamo domandarci qui è la parte un po' più del giurista e che cosa possiamo fare sulla base delle regole in particolar modo quelle costituzionali e io utilizzo il termine costituzionale in senso sostanziale non formale cioè mi riferisco alle norme fondamentali che in ogni ordinamento si presumono essere tali quindi rispetto a questo contesto la nostra primo elemento di analisi non possono che essere le norme fondamentali dell'Unione Europea le norme fondamentali dell'Unione Europea in ambito europeo la protezione ambientale ha una lunga storia ora qui ci sono molti esperti che lo saprebbero dire molto meglio di me ma la politica ambientale europea inizia già nel 1987 con l'atto unico europeo e si consolida poi pian piano nella progressione dei trattati oggi nei trattati dell'Unione Europea abbiamo il principio della tutela ambientale sia nel trattato sull'Unione Europea nell'articolo 3 quindi uno dei primissimi articoli del trattato sia negli articoli 11 e 191 del trattato sul funzionamento ora io vi faccio grazie della descrizione di queste norme per dirvi che queste norme impongono all'Unione Europea due cose sostanzialmente una politica ambientale europea rivolta all'interno ma rivolta pure all'esterno cioè nel consesso internazionale in cui l'Unione Europea partecipa ormai insieme agli stati e talvolta pure in sostituzione degli stati ma per la verità piuttosto insieme e il secondo portato di queste norme è l'integrazione del principio di una tutela ambientale elevata in tutte le politiche di competenza dell'Unione Europea quindi c'è una politica ambientale europea e poi c'è una necessaria considerazione della tutela ambientale in ogni politica ora questa necessaria considerazione la norma dice proprio così tenere in considerazione la classica formula che si utilizza a livello normativo per non dire fino in fondo quello che bisogna fare può essere interpretato in due modi tenere in considerazione può essere interpretato in senso procedurale cioè nella nella presentazione di proposte siano esse proposte normative siano esse proposte di finanziamenti si deve dar atto di aver considerato la protezione ambientale oppure un'interpretazione più forte in senso sostanziale in cui non solo si deve aver considerata la questione ambientale ma devono esserci nelle singole proposte delle norme a tutela dell'ambiente in una prima fase noi abbiamo la dottrina ha interpretato questo principio della tutela ambientale in senso prevalentemente procedurale e talvolta in senso procedurale anche debole perché noi non abbiamo sempre negli atti che la commissione porta all'attenzione delle altre istituzioni un riferimento a studi condotti tra l'altro abbiamo un'agenzia europea sull'ambiente che non è fortissima è un'agenzia che ha un margine importante di miglioramento delle sue attività e di maggiore consulenza ma allo stato attuale ha un compito di pura standardizzazione dei dati o prevalentemente standardizzazione dei dati negli ultimi anni però le cose stanno molto cambiando nel senso si va sempre di più verso un'interpretazione di questo principio di una tutela elevata in senso sostanziale da questo punto di vista il prima il prisma di osservazione del mio studio riguarda gli atti connessi con la creazione della società digitale in questi atti connessi con la creazione della società digitale che sono una parte importante del programma della commissione von der Leyen che si pone come ricordato che si pone fin dall'inizio del suo mandato di costruire la società digitale ora in questi atti ce ne sono due in particolare in cui emerge in modo evidente questo salto di qualità della tutela ambientale e sono il regolamento cosiddetto chip act sui semiconduttori e il regolamento sull'intelligenza artificiale che proprio oggi è stato approvato in via definitiva dal Parlamento europeo a seguito di un accordo politico che come aveva detto l'onorevole Bennifei era già stato raggiunto qualche settimana fa allora in questi due atti noi abbiamo delle novità perché nel chip mi consentirete due minuti sul regolamento sui semiconduttori sui microchip ora perché l'Unione europea si occupa di microchip si occupa di microchip perché è un settore strategico per oggi ma soprattutto per domani in cui gli stati membri dell'Unione europea sono in forte difficoltà sono in forte difficoltà sia dal punto di vista del design cioè non hanno brevetti di microchip di ultima generazione sono in forte difficoltà per quanto riguarda la produzione l'ottanta per cento della produzione mondiale dei microchip ha una localizzazione specifica e che secondo me aiuta a comprendere tante cose che è Taiwan poi da Taiwan questo ottanta per cento di produzione mondiale arriva nel mercato cinese dove vengono lavorati e dal mercato cinese arriva nei mercati di tutti gli stati quindi voi capite quale sia l'importanza oggi di Taiwan da un punto di vista geopolitico il design cioè la ricerca nel campo dei microchip è invece quasi totalmente americana che gli Stati Uniti mantengono una produzione che è vagamente sufficiente per il proprio fabbisogno ovviamente però hanno tutti i brevetti di ultima generazione rispetto a tutto ciò l'Unione Europea non ha nell'uno o nell'altro quindi in questo regolamento la commissione von der Leyen si poneva l'obiettivo di accelerare la produzione europea per consentire in un lasso di tempo piuttosto lungo all'Unione Europea di essere se non autonoma nella produzione almeno in grado di non essere eccessivamente soggetta a rischi geopolitici che si possono chiaramente verificare e in questo regolamento abbiamo delle nuove norme per ciò che riguarda l'implementazione di fabbriche europee di microchip chiamate fonderia aperte e questa implementazione per avere i finanziamenti europei richiede degli standard ambientali ben precisi così come sono richiesti degli standard ambientali di produzione dei microchip che devono dunque essere efficienti da un punto di vista energetico per poter immagina la commissione negli anni essere commercializzati sul territorio europeo quindi l'Unione Europea da un lato punta ad entrare in questo mercato ma dall'altro lato punta anche a vincolare chi vuole vendere sul mercato europeo come ha fatto in molti altri settori in questi anni nel regolamento sull'intelligenza artificiale egualmente abbiamo delle norme che sono chiaramente ispirate a una declinazione sostanziale del principio di tutela e le troviamo soprattutto nella attribuzione alla commissione del compito di promuovere i codici di autoregolazione i quali codici di autoregolazione dovranno necessariamente integrare al loro interno delle previsioni di sostenibilità ambientale a questo aggiungiamo che proprio nel primo articolo con cui si apre il regolamento c'è una dichiarazione di principio sulla sostenibilità ambientale dei servizi di intelligenza artificiale come sviluppo obbligato dell'azione europea in questo settore ora capite molto bene che qui l'Unione Europea sta chiarendo un punto qual è il punto che sta chiarendo il punto che sta chiarendo è che la costruzione della società digitale europea non potrà prescindere da una tutela ambientale forte non solo per questioni ideali che pure sono iscritte nelle norme fondamentali dell'euro europea come in quelle degli stati oggi ma anche per una questione se mi consentite di realpolitik la società digitale in quanto società energivora starà in piedi solo se da un lato sapremo aumentare la produzione di energie rinnovabili e dall'altro contenere i consumi che la stessa società digitale produrrà immaginate questo qui non c'è un passaggio come quello da società agricola industriale che finisce la società agricola e inizia la società industriale qui arriva la società digitale e sale sulle spalle della società industriale che dunque continuerà a produrre inquinamenti come prima certo il digitale aiuterà a contenerli no come abbiamo detto quindi noi non abbiamo una sostituzione di modelli organizzativi ma abbiamo un modello organizzativo industriale a cui si sovrappone uno sviluppo digitale che è potenzialmente energivo detto questo cosa fare cosa fare lo vedremo nei prossimi dieci anni ma alcune cose si possono già immaginare innanzitutto forte sviluppo di norme tecniche cioè di certificazione anche in campo digitale sulla falsa rega di quelle che già conosciamo delle automobili delle case delle lavatrici però in questo caso riferite a prodotti digitali e a processi digitali poi una standardizzazione dei dati perché noi per elaborare le politiche abbiamo bisogno che questi dati siano standardizzati e controllati da qualche ente indipendente perché altrimenti se ciò non avviene rischiamo dei pericolosissimi fenomeni di greenwashing cioè l'utilizzo di dati farlocchi da parte delle aziende per dire no noi siamo comprati i nostri prodotti perché noi siamo amici dell'ambiente ve lo diciamo sulla base di questi dati che vi proponiamo ma che ci rendiamo conto non sempre sono dati indipendenti e poi una verifica da questo punto di vista rigoroso dei prodotti che arrivano sul mercato europeo e dei servizi che rispettino quegli standard di tutela ambientale che la commissione europea anche grazie a questi atti normativi vorrà in futuro adottare io credo di essere stato nei tempi concorso allora sei stato bravo perché sei stato sintetico ma hai detto delle cose molto importanti e poi andavano in continuazione col seminario di due settimane fa quindi c'è stato un epilogo non so se avete connesso i due seminari e adesso abbiamo Leonardo tu hai tempo di aspettare ancora 20 minuti cioè quanto tempo hai parlerà subito allora parlerà subito l'avvocato Salvemini che tiene in questo Ateneo anche un corso di diritto dell'ambiente non so se qualcuno no va bene gli diamo il micro non so se qualcuno l'avvocato Salvemini fa anche parte di una commissione insieme all'avvocato del vecchio per la riforma del codice dell'ambiente del codice nazionale dell'ambiente quindi stanno lavorando insieme non so in base a quali criteri sui criteri europei o nazionali ce lo dirà prego Leonardo grazie grazie Paola grazie buongiorno a tutti il codice il testo unico ambientale o codice dell'ambiente adesso bisogna vedere l'addizione che uno preferisce e sarà oggetto di una di una corposa e radicale revisione alla luce della delle riforme costituzionali quindi della riforma dell'articolo 9 e dell'articolo 41 in particolare e non solo anche alla luce della corposa e copiosa giurisprudenza della corte costituzionale della corte europea e della corte di giustizia che sui temi ambientali sui diritti fondamentali è intervenuta una tra tutte per esempio stiamo aspettando due pronunce della corte europea diritti dell'uomo su questa dizione delle nuove generazioni su cui è evidente che il nuovo codice si dovrà si dovrà soffermare perché proprio la conclusione della parte dell'ultimo comma inserito in articolo 9 proprio riguarda l'interesse delle nuove generazioni che è un tema che in materia ambientale è fondamentale prima il professor Ruffino ricordava l'86 quindi ricordava l'atto unico ma ricordava è evidente che per noi ambientalisti o giuristi ambientali l'86 è anche il momento di Brantland quindi il momento dello sviluppo sostenibile che non fa altro che riprendere fin dei conti Stoccolma perché lo sviluppo sostenibile era stato iniziato lì quindi questo è il quadro e l'altro tema forte è quello che evidenziava la professoressa bilancia cioè la tutela dell'ambiente non conosce confine voi pensate che questa nostra bellissima materia come la definiamo noi giuristi nasce grazie a un lodo arbitrale tra Stati Uniti e Canada da 1942 quando bisticciarono per un inquinamento a confine dovuto a questa questa fabbrica canadese e gli agricoltori americani naturalmente subirono degli enormi danni bene grazie a questo lodo arbitrale nacque il principio se inquini paghi ma non solo nasce il principio del divieto di inquinamento trasfrontaliero nasce il principio dell'informazione ambientale nasce il principio forte che la sovranità di un paese cede il passo alla tutela dell'ambiente ecco la ragione per cui noi quando ricordiamo i principi fondamentali naturalmente ci ancoriamo al migliorare la qualità dell'ambiente per carità non rinunciamone all'articolo 3 neanche all'articolo 11 bellissimo principio di integrazione ambientale cioè non c'è attività umana che non possa dirsi coinvolgente l'ambiente ma soprattutto alla prima parte dell'articolo 191 dove nel richiamare i principi fondamentali precauzione prevenzione correzione che inquina paga eccetera richiama il tema fondamentale che siamo chiamati a migliorare la qualità dell'ambiente ciò vuol dire è che l'ambiente non è una disciplina statica subisce fortissimamente l'influenza della prima parte dell'articolo 9 cioè della ricerca scientifica e si evolve tenendo presente che cosa ecco adesso sappiamo che cosa dobbiamo tenere presente l'interesse delle nuove generazioni si parlava prima del digitale all'interno dei macro temi di cui andremo a discutere nella riforma del codice abbiamo anche il digitale perché una mail senza legati cuba 9 grammi di CO2 se poi ci inserisco degli allegati naturalmente questi vanno a cubare ora l'intelligenza artificiale è uno dei regni per esempio della criminalità organizzata in materia di ecoreati e quindi anche questo è uno dei temi che naturalmente cercheremo di valutare perché nel 405 a 2 seguenti del codice penale per esempio questo tema non è governato ecco quindi l'obiettivo della commissione è quello di stendere sul tavolo un po' tutto il panorama ambientale è evidente che dobbiamo tenere conto del quadro costituzionale quindi di un 117 della costituzione che su questo ha giocato un po' a nascondino cioè mettendo da una parte poi nascondendo dall'altra mettendo l'articolo al 117 secondo com a lettera s alla tutela dell'ambiente come materia competenza esclusiva e nascondendo per esempio la valorizzazione a favore delle regioni in materia in maniera concorrente e poi provocando la corte che dice benissimo regione se hai un motivo per tutelare maggiormente l'ambiente perché non puoi farlo fallo pure e qui naturalmente si giocherà la grande partita il 116 terzo comma cioè il regionalismo differenziato e i due temi energia ambiente li hanno inseriti all'ep 8 hanno inserito naturalmente è previsto questo collegamento quindi il quadro il quadro è sicuramente complesso non è facile non è semplice perché incrociamo naturalmente la tutela dell'ambiente lo sviluppo economico lo sviluppo industriale la ricerca scientifica e naturalmente la ricerca del benessere dell'uomo perché in fin dei conti la digitalizzazione dovrebbe puntare ad aumentare il benessere dell'uomo su questo la commissione nel 2012 credo 13 ha elaborato i 12 domini benessere eco e sostenibile attraverso cui poi noi siamo giunti ai 17 goals dell'agenda però è evidente che sono tutti temi che incrociano la cosiddetta impronta dell'uomo sull'ambiente e questa è la grande sfida che incide sui nostri comportamenti individuali dove abbiamo i principi costituzionali fondamentali che naturalmente pretendiamo e chiediamo che vengano rispettati però dall'altra parte abbiamo la tutela dell'ambiente la tutela dell'ambiente nell'interesse delle nuove generazioni l'ultimo passaggio è se fare un intervento di tipo chirurgico oppure un intervento di tipo complesso quindi azzerare il quadro normativo esistente e poi riscriverlo e qui naturalmente la riflessione cade su tutte le materie che possono dirsi rilevanti per la materia ambiente una tra tutte non so il paesaggio di LGS 42 del 2004 che poi non fa altro che prendere la seconda parte dell'articolo 9 della Costituzione che era un po' la nostra arma prima ancora della tutela dell'ambiente in Costituzione dopo la riforma del 2001 l'arma dei giuristi era proprio quella cioè il paesaggio l'articolo 9 qui mi vergogno a dirlo avevamo un articolo 844 del codice civile sulle emissioni sulla cosiddetta normale tolerabilità e dal punto di vista penale avevamo un 674 che cercavamo di governare nel miglior modo possibile per reprimere i comportamenti delittuosi quindi un panorama molto magro per poi arrivare al quadro sanzionatorio delle cosiddette sanzioni che potevano essere di tipo pecuniario o altro ecco oggi l'obiettivo è anche questo quello di disciplinare in maniera un pochettino più corretta e forse più aderenti alle sfide perché noi abbiamo in un altro ambito rispetto alla commissione come consigliere giuridico della bicamerale sulle ecoreati spesso e volentieri incrociamo questo tema dei reati indicatori dall'abuso d'ufficio dall'omissione dati d'ufficio dalle sanzioni piccole dagli sversamenti piuttosto che il risultato è che questi sono indicatori di reati ben più corposi ben più importanti che afferiscono alle organizzazioni criminali che sicuramente non hanno più né la coppola e neanche la doppietta sulla spalla questo credo che sia acquisito ecco l'altro quadro importante sanzionatorio sarà quello l'oggetto di grande di grande riflessione perché noi ancora nell'ambito penalistico viviamo della responsabilità oggettiva un po' quella che ogni tanto incrociamo nell'ambito calcistico mentre noi siamo figli dell'articolo 27 della Costituzione cioè della personalità invece del comportamento e quindi della sanzione e in materia ambientale abbiamo sulla nostra testa il principio inquina paga quindi il nesso di causalità tra il comportamento inquinante e la sanzione che nel caso di specie il risarcimento danni laddove è possibile o in forma equivalente oppure se non è possibile viene scaricato sulla fiscalità generale questo è un po' il cuore della riforma che naturalmente sconta dei tempi anche abbastanza brevi perché abbiamo una scadenza iniziale a settembre di quest'anno come legge delega e poi avremo a fine 2025 invece con i decreti attuattivi se faremo più decreti attuattivi oppure non decreti attuattivi non mi sono dimenticato dell'urbanistica è evidente che è uno dei macrotemi che incide sulla tutela dell'ambiente e il governo del territorio però è un tema che incrocia la gopenza concorrente delle regioni il governo del territorio su cui timidamente qualche iniziativa sulla salute dei suoli sui principi di riduzione del consumo del suolo ci sono finiranno nel testo unico non lo so perché qui naturalmente c'è un passaggio regionale c'è una competenza dei comuni come funzioni fondamentali su cui naturalmente ci si dovrà confrontare grazie grazie mi sembra che il lavoro sia tanto da fare buon lavoro a tutti e due buon lavoro adesso andandotele via e ciao ci sentiamo e adesso invece cambiamo argomento perché andiamo ci trasferiamo il settore energia e abbiamo qui un componente dell'autorità indipendente sull'energia che si chiama ARERA che è acronimo di me lo sono segnato autorità di regolazione per energia reti e ambiente capo della direzione legale capo della direzione legale e infatti è avvocato dello stato nella vita attualmente componente di questa autorità indipendente che ha sede a Milano una volta era Piazza Cavour è ancora Piazza Cavour perfetto e allora ci vuoi parlare del potere di questa autorità indipendente più o meno di questa autorità indipendente sull'energia che potere ha grazie 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 dell'invito grazie appunto alla professoressa a bilancia il centro studi del federismo l'università statale tra l'altro e da poco abbiamo anche stipulato una convenzione con l'università statale quindi tra l'autorità di regolazione energia reti e ambiente e la statale quindi mi fa particolarmente piacere perché è una sinergia che si viene si viene sempre più a rafforzare io devo dire leggendo il titolo appunto leggo Unione Europea tra transizione ecologica e crisi energetica e devo dire che queste sono tre cose che racchiudono un po' anche questa esperienza in autorità come diceva appunto la professoressa io sono un avvocato dello Stato e sono fuori ruolo in questo momento come alla direzione legale di di questa autorità e ho incrociato proprio mentre si parlava di transizione ecologica sulla transizione si è abbattuta la crisi quindi potremmo dire che sono quasi concatenate queste cose l'Unione Europea ha fatto un po' d'affaro cioè ci ha dato quei principi quelle direttive fondamentali che spesso devo dire non me ne vogliono i costituzionalisti qui presenti ma nemmeno la Costituzione riesce a garantire e questo perché perché le autorità nascono negli anni 90 le autorità amministrative indipendenti proprio su una sorta di ispirazione veramente tipicamente europea le prime antesignane insomma di autorità indipendenti sono Banca d'Italia e Consop poi si è aggiunta l'antitrust l'autorità per le comunicazioni come sapete di cui io ho fatto anche lì parte per tre anni sempre al servizio giuridico e poi ovviamente quella per l'energia e insomma anche poi si è aggiunta quella dei trasporti e tutto quanto autorità che hanno tre tipi di indipendenza potremmo dire c'è indipendenza rispetto ai regolati che risulta particolarmente importante proprio per le decisioni che poi si assumano perché in questo modo si garantisce una terzietà e quindi soprattutto non c'è la cosiddetta cattura del regolatore di cui spesso si parla e questa è stata anche qui diciamo ben tratteggiata da una direttiva la 55 del 2003 una direttiva europea che in effetti ha insomma sancito in modo chiaro chiaramente anche questa questa indipendenza un'indipendenza dal potere legislativo dal potere esecutivo e anche per certi versi diciamo non dal potere giurisdizionale perché gli atti delle autorità indipendenti anche se c'è stato un momento in cui si parlava di natura paragiurisdizionale delle autorità indipendenti comunque soggiacciono alla giurisdizione dei giudici amministrativi anche degli altri giudici ci fu un tentativo proprio nel 2018 da parte di antitrust di sollevare una questione di legittività costituzionale che come sapete è una questione che viene sollevata da un giudice sostanzialmente dal cosiddetto giudice a può e in quel caso la corte costituzionale con una sentenza molto come dire perentoria ovviamente disse guarda tu non sei un giudice quindi chiaramente non è ammissibile una cosa del genere quindi sostanzialmente ecco quindi indipendenza anche dai vari poteri indipendenza poi tra autorità e questo è per esempio un altro tema che abbiamo avuto modo di riscontrare recentemente per esempio in questo clima soprattutto di passaggio dal mercato tutelato al libero mercato un passaggio che tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle perché penso che ognuno di noi riceve perlomeno cinque, sei se non dieci telefonate al giorno di persone che ci propongono di cambiare operatore e ci promettono chiaramente risparmi epocali e su questo ecco noi dobbiamo essere autonomi ecco le varie autorità non si devono accavallare tra di loro quindi in questo c'è un'indipendenza un'autonomia rispetto per esempio soprattutto tra noi e l'autorità per la concorrenza e il mercato perché spesso si tende a intervenire magari anche due volte su una stessa questione da parte di due autorità e su questo abbiamo avuto tantissima giurisprudenza negli ultimi anni basta ricordare per esempio tutta la questione delle pratiche commerciali scorrette che venivano per esempio anche per quanto riguarda i servizi di telefonia io me ne sono occupato quando erano nell'altra autorità cioè quando per esempio c'erano i cosiddetti l'attivazione dei cosiddetti servizi non richiesti e in quel caso appunto siamo andati fino in corte di giustizia perché AGCOM e AGCM quindi comunicazione antitrust si contendevano fondamentalmente il potere di intervenire chiaramente con le proprie direttive di riferimento europee su quella materia e si disquisiva soprattutto sul fatto se quella pratica commerciale si doveva definire aggressiva e quindi in quel caso era di competenza di antitrust oppure era una pratica semplicemente di violazione della normativa settoriale e quindi in quel caso era la competenza dell'autorità per le comunicazioni e in quel caso sostanzialmente antitrust la spuntò perché per la questione anche di fatto di quella sentenza del 2018 della Corte di Giustizia in realtà la pratica doveva ritenersi in quel caso sicuramente una pratica aggressiva e quindi insomma si è andata avanti e fondamentalmente si è affermato sempre la regola ordinaria di una pratica commerciale scorretta a meno che non ci sia una particolare specificità settorialità che tenga a far prevalere le autorità di settore l'abbiamo visto proprio anche nel caso del cambiamento diciamo unilaterale delle condizioni di contratto che ci sono stati appunto anche l'anno scorso da parte appunto delle compagnie elettriche che magari e anche telefoniche che comunicavano appunto che erano cambiate improvvisamente le condizioni anche in assenza di una scadenza allora se non c'era la scadenza è chiaro che si trattava di una pratica commerciale aggressiva e doveva essere sanzionata in quel caso da antitrust se invece però c'era una scadenza o perlomeno si trattava chiaramente di una condizione che poteva essere rinnovata allora in quel caso non c'era tant'è vero che lì abbiamo avuto anche un confronto devo dire anche abbastanza una buona dialettica con l'antitrust che noi eravamo per non sanzionare proprio perché c'era una evidente cesura nell'ambito dei contratti e quindi non si trattava di una pratica commerciale aggressiva antitrust invece è andata come dire dritta per quella strada e infatti il giudice amministrativo Taro e Consiglio di Stato hanno accolto i ricorsi delle compagnie delle società che avevano impugnato quelle sanzioni quindi questo come quadro di carattere generale questo clima dell'Unione Europea ha dato sicuramente alla transizione ecologica ovviamente una mano importante basti ricordare a quello di cui sentiamo parlare spesso cioè le cosiddette fonti rinnovabili le comunità energetiche rinnovabili l'autoconsumo tutte cose che sostanzialmente di cui sentiamo parlare già da un po' di tempo ma che adesso stanno cominciando ad assumere forma contenuto basti pensare che a fine 22 soltanto quindi insomma non tanto tempo fa c'è stato un testo unico integrato per quanto riguarda l'autoconsumo approvato proprio con una delibera di Arera e soltanto due mesi fa c'è stato il decreto ministeriale del Mase che in realtà ha approvato il regolamento sugli incentivi che rappresenta ovviamente una parte estremamente importante anche per quanto concerne l'autoconsumo perché l'autoconsumo ovviamente vive anche di incentivi che vengono chiaramente corrisposti il caso in cui ovviamente il produttore è anche consumatore quindi diciamo c'è una compensazione e diciamo è una sorta chiaramente anche di nuovo sistema che deve crescere sia un sistema di mentalità fondamentalmente che probabilmente deve essere anche più spiegato ancora alla gente proprio perché rappresenta chiaramente una novità importante anche se sta sempre più prendendo piede e sia una novità anche per quanto riguarda proprio le strutture perché la filiera elettrica per esempio questo per esempio non lo sapevo poi sono tre anni ormai che mi occupo di questo quindi è una filiera incredibile perché ha tantissimi attori il produttore il distributore il venditore il reseller l'utente il cliente l'utente finale cioè è una catena che insomma è estremamente molto molto articolata e quindi anche in questo campo c'è il cosetto di spacciamento elettrico cioè come portare ovviamente l'energia dalla produzione fino alle case alle nostre case è un percorso ovviamente molto molto lungo e ovviamente le fonti rinnovabili cambiano anche questa questa forma di dispacciamento appunto dell'energia quindi occorrono per esempio delle fonti di accumulo perché chiaramente non sarà più una sorta di energia corrente bisognerà prima stoccarla accumularla per poi chiaramente rimetterla in circolazione nel momento in cui serve quindi serve chiaramente un cambiamento di carattere proprio generale tutto questo a livello europeo è stato garantito dall'ambito del clean energy package e dalle direttive in particolare la 2001 del 2018 e la 944 del 2019 che sono poi sfociate nella nell'ambito appunto dei decreti legislativi che hanno ovviamente poi come dire insomma ricevuto appunto queste delibere decreti legislativi appunto del 2021 e ovviamente si tratta di queste comunità hanno chiaramente anche riflettono in sostanza un richiamo forte a quelli che sono i principi costituzionali in particolare l'articolo 9 per quanto riguarda la tutela dell'ambiente la biodiversità gli ecosistemi anche degli interessi delle future generazioni l'articolo 41 sull'iniziativa economica l'articolo 118 per quanto riguarda ovviamente anche appunto in questo caso parliamo proprio nella casa del federalismo quindi dove Stato, Regioni, Città, Metropolitana e Provincia e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale Sì, ce ne sono parecchie sì, assolutamente sì, ce ne sono parecchie ce ne sono i piccoli fondamentalmente ma ce ne sono anche si costituirà anche più grandi perché in realtà proprio con adesso con gli incentivi ovviamente le questioni chiaramente partono in modo più organico proprio perché in effetti occorre la corrispondizione anche degli incentivi e quindi è chiaro che adesso insomma la questione potrà essere diciamo più a livello di paesi che non di città no, anche in alcune zone delle città anche in alcuni quartieri di alcune città sì, sì, assolutamente soprattutto devo dire anche paradossalmente anche al sud Italia ci sono state varie creazioni sia per quanto riguarda l'autoconsumo quindi autoconsumo parliamo di livello ovviamente più basso parliamo di condomini proprio e più insomma diciamo ma adesso anche per quanto riguarda le comunità stanno chiaramente aumentando e su questo appunto io nei liani massima sul ripeto il TIAD è stato chiaramente questo testo integrato è del di fine ventidue il decreto ministeriale è di adesso quindi ovviamente siamo chiaramente in una fase assolutamente ancora come dire normativa ecco di informazione però è chiaro che adesso insomma la situazione dovrebbe se la crisi ecco se la transizione riesce ad andare avanti perché la crisi consente oltretutto che noi ci abbiamo avuto appunto l'aumento del costo delle materie prime le guerre e adesso non è finito qui ecco speriamo di no e quindi insomma sulle autorità voglio dire soltanto un'ultima cosa cioè che recentemente c'è stato appunto a parte vi dicevo quei criteri di indipendenza anche tra le varie autorità ma c'è stato anche un caso particolarmente interessante in cui l'autorità per l'energia ha disapplicato una legge dello Stato questa è stata una cosa particolarmente importante perché era successo poche volte disapplicato significa non ha attuato nell'ambito appunto di una delibera in modo motivato ovviamente una legge che era intervenuta su una materia che è la distribuzione gas perché per alcune zone diciamo di una zona climatica F dove c'è una metanizzazione in corso quindi anche perché dobbiamo dire che le fonti rinnovabili sono sicuramente un elemento importante per il futuro ma ovviamente non sostituiranno mai diciamo e quindi ci sarà sempre ovviamente una parte di energia tradizionale cosiddetta tradizionale che ancora per tanti tanti anni ovviamente accompagnerà questo percorso perché spesso si dice insomma appunto si parlano di queste sostituzioni è chiaro sta aumentando però insomma appunto il processo è un processo lento e su questo dicevo quindi c'è c'è stata questa affermazione nell'ambito appunto di c'erano state le sentenze che in realtà su una questione di costi avevano ritenuto che non si applicasse un tetto per quanto riguarda un riconoscimento di costi per tutti i comuni italiani alcuni comuni erano diciamo avevano ottenuto una legge diversa perché avevano delle esigenze specifiche erano dei comuni in avviamento si diceva come metanizzazione e quindi in quel caso noi siamo diciamo avevano fatto una norma di legge che aveva di fatto creato una sorta di legge ad persona per dirla perché in quel caso si diceva il riconoscimento integrale non c'è il tetto noi siamo intervenuti disapplicando appunto quella norma e il giudice amministrativo e il consiglio di stato hanno confermato l'indipendenza dell'autorità e la competenza dell'autorità in questa materia a poter a poter disapplicare sì quella norma tant'è vero che poi il governo e il Parlamento dopo hanno abrogato abrogato quel comma che era stato inserito e quindi la legge è stata rifatta mettendo un tetto sostanzialmente per tutti i comuni quindi abolendo chiaramente quella sorta di riconoscimento integrale che invece veniva garantito precedentemente e questo è stato fatto direttamente dal giudice amministrativo che quando il giudice di primo grado il TAR può rimettere la questione alla Corte di Giustizia ma può anche deciderla da solo quando invece il Consiglio di Stato Cassazione l'articolo 267 del trattato dice che in effetti in quel caso ci sarebbe l'obbligo di rimettere alla Corte di Giustizia in questo caso era un TAR quindi il TAR ha deciso autonomamente ma c'è anche da dire che ormai si fa strada a un orientamento per cui il giudice amministrativo anche di secondo grado cioè il Consiglio di Stato possa decidere anche autonomamente una questione europea purché motivi nel senso purché l'affronti e purché motivi perché questo è un altro tema che spesso si fa e si discute anche nei convegni cioè si rimette sempre tutto a questa Corte di Giustizia come se fosse una sorta di cosa ineluttabile che noi dobbiamo chiedere al giudice a Lussemburgo che cosa dobbiamo fare e questo tutto sommato non è proprio e c'è l'obbligo previsto dal 267 però c'è un obbligo ad esaminare la questione quella è una norma che riguarda il dialogo tra le giurisdizioni sostanzialmente per cui se a un certo punto io l'esamino la motivo e decido non ci sarà responsabilità per il magistrato né tantomeno procedura di infrazione per lo Stato italiano quindi si tratta chiaramente però di affrontarla certo se il giudice non l'affronta proprio oppure chiaramente non se ne cura insomma nel modo più assoluto è chiaro che in quel caso si incurre in una responsabilità per cui questo è stato un tema insomma che ha affermato anche la capacità e soprattutto il ruolo ancora di attualità e di importanza anche come terzietà delle autorità indipendenti ti ringrazio allora abbiamo imparato a due cose prima di tutto l'esistenza di queste comunità energetiche che ci piace molto ma non sappiamo ancora bene come funzionano e secondo questo rafforzamento del ruolo dell'indipendenza delle autorità amministrative indipendenti che viene rivendicata da anni però di fatto adesso mi sembra che il grado di indipendenza sia acclarato benissimo adesso abbiamo cosa abbiamo ancora Anna Papa la professoressa Papa dell'Università Partenope di Napoli che pazientemente ci ha atteso ma dovendo festeggiare il compleanno giustamente non si è spostata da Napoli e allora di che cosa ci parli Anna perché vuoi continuare sulle comunità energetiche o hai altre cose da dire un altro argomento sempre di energia buon pomeriggio a tutti in realtà mi collego alle cose che ha detto l'avvocato del vecchio e anche i colleghi che mi hanno preceduti preceduto un ringraziamento innanzitutto alla professoressa bilancia anche per aver ricordato il perché non sono a Milano e di questo davvero davvero mi scuso e un ringraziamento al Centro Studi sul Federalismo e all'Università di Milano quindi colgo l'occasione per salutare i colleghi che vedo e gli altri che so essere presenti insieme al pubblico che purtroppo non vedo e con il quale ancora mi scuso avevo pensato proprio di e mi fa molto piacere che diciamo di aver ricevuto quasi un assist da Paolo Del Vecchio perché c'è un tema che accompagna la transizione energetica che è quello della povertà energetica che è fortemente legata a quelle alle comunità una piccola una piccola premessa ma è stato già già detto l'Unione Europea ha un percorso in materia di transizione energetica di attenzione alla transizione energetica che precede sia la pandemia sia la forte crisi che stiamo vivendo e sappiamo bene come diversi sono gli obiettivi che l'Unione si è data e ha dato agli Stati come giustamente ricordava la professoressa bilancia nel caso della transizione energetica gli attori principali sono gli Stati non soltanto come attuatori ma anche come decisori e quindi tra gli obiettivi noi troviamo sicuramente la sicurezza energetica con la diversificazione la tutela ambientale di cui parlava prima l'avvocato Gaetano Salvemini e quindi la riduzione della carbonizzazione l'efficienza energetica anche su questo tornerò velocissimamente alla fine ma c'è anche il tema della ridistribuzione e quindi il tema dell'uguaglianza energetica perché perché l'aumento dei costi dell'energia e del gas ha reso particolarmente evidente come un diciamo così un fabbisogno energetico basato prevalentemente su fonti non rinnovabili ed esterne mette in grande difficoltà intere fasce di cittadini di un'intera parte della comunità che subisce in modo forte l'impatto degli aumenti nella misura in cui come dirò poi non sempre è possibile attenuare questi effetti quindi noi possiamo dire che la disuguaglianza e la povertà energetica sono un dato un dato come vedremo non solo nazionale ma un dato europeo e paradossalmente è un dato che emerge ancora di più nei paesi più ricchi perché nei paesi più ricchi la differenza tra chi può diciamo così disporre delle risorse necessarie senza rinunciare a nulla per approvvigionarsi di energia e coloro che invece devono rinunciare a qualcosa per potersi approvvigionare dell'energia è particolarmente forte e d'altro canto è un elemento che noi in Italia conosciamo soltanto la nazionalizzazione del 67 lo so che parlare di nazionalizzazione oggi è complicato è difficile ma la diffusione dell'energia su tutto il territorio nazionale noi la dobbiamo alla nazionalizzazione del 67 oggi siamo andati molto avanti ma anche in quel in quel caso noi abbiamo dovuto prendere atto che il mercato dell'energia non è un mercato spontaneo che spontaneamente riesce a raggiungere tutti gli obiettivi quindi la povertà energetica è stata tamponata nel tempo con prezzi controllati fasce di esenzione prezzi non di mercato oggi è tamponata con bonus abbiamo il bonus abbiamo avuto il bonus energia e con importanti non è piageria provvedimenti della Rera negli ultimi due anni più di una volta ho avuto la possibilità all'onore di confrontarmi con con Paolo Del Vecchio insomma è che mi raccontava i tanti interventi che l'autorità ha fatto anche e diciamo così con questo obiettivo da perseguire ma è evidente che occorre una strategia più strutturale e provo a dare parto dalla definizione di povertà energetica difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici oppure una condizione in cui l'accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse come ci dice l'Unione Europea non siamo di fronte a bisogni voluttuari siamo di fronte siamo di fronte a un bisogno primario che spesso per essere soddisfatto richiede di rinunciare ad altre cose come ci dice la Commissione Europea qui stiamo parlando di riscaldamento di condizionamento di utilizzo dell'energia per i bisogni essenziali delle persone e quindi immaginare che per fare questo occorra non curarsi o rinunciare ad altre cose è qualcosa che occorre prendere in considerazione ora qual è la strategia europea e su questo effettivamente degli elementi di perplessità non posso personalmente non avere noi siamo di fronte a una dimensione europea nella quale ci dicono i dati della Commissione una persona su dieci vive in condizioni di povertà energetica e quindi nel pacchetto di riforme che la Commissione ha voluto chiamare energia pulita per tutti i cittadini europei le strategie sono individuate sono state essenzialmente tre sono essenzialmente tre la liberalizzazione dei mercati energetici e questo è forse l'elemento sul quale io diciamo così ho le maggiori perplessità il Green New Deal che è quello che stiamo vivendo diciamo così in modo intenso che è alla base della del next generation e quindi dei piani nazionali e da ultimo del ripaule e poi c'è l'elemento dell'efficienza energetica ecco l'ultima considerazione che vorrei fare è proprio sul tema dell'efficienza energetica secondo le le indicazioni che sono le indicazioni dell'unione che noi abbiamo condiviso nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima occorre prestare grande attenzione e tensione alla elettrificazione di consumo garantendo però al tempo stesso che la produzione di energia provenga sempre di più lo è stato detto anche prima da fonti rinnovabili e noi sappiamo che circa il 40% dei consumi elettrici nel nostro paese dipende dagli edifici noi abbiamo edifici non efficienti e di questi edifici non efficienti circa il 20% diciamo così il 20% di questi consumi da edifici non efficienti viene da edifici pubblici da edifici usati da soggetti pubblici o da edilizia sociale pubblica due giorni fa ed è per questo che insomma brevemente mi soffermo l'europarlamento ha dato l'ok definitivo a quello che viene a quella che viene chiamata la direttiva case green ora si astende l'approvazione formale finale da parte non formale anzi per una cosa che ti rotta l'approvazione finale da parte del consiglio diciamo così la decisione del consiglio dovrebbe avvenire a breve ma bisogna tener conto di un dato questa direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo veramente non a larga maggioranza possiamo dire che trecentosettanta voti sono stati favorevoli ma duecentosinquanta sono i contrari e gli astenuti e questo ci porta a ritenere che in sede di consiglio l'approvazione di questa direttiva così come oggi eppure è stata modificata più di una volta diciamo così nell'attività di mediazione non è poi così scontata i giornali di oggi riportano un po' tutti la notizia di questa approvazione perché questa approvazione è particolarmente importante perché questa direttiva che dovrà essere precipita entro i prossimi due anni quindi con un tempo molto breve non prevede lo stanziamento di nuovi fondi europei quindi sono fondi che o dovranno uscire da next generation oppure che dovranno diciamo così essere individuati dagli stati nell'ambito dei propri bilanci e prevede due obiettivi molto forti quello del 2030 e quello del 2050 dobbiamo ridurre entro il 2030 il 16% dei consumi che provengono dal non efficientamento degli edifici questo significa che tutti i nuovi edifici dovranno essere green ma che dovremo scusatemi se vi do percentuali ma sono quelle che ci vengono date il 43% dovrà venire da ristrutturazioni ristrutturazioni ora pensare che si possano fare delle ristrutturazioni obbligate senza incentivi personalmente la ritengo abbastanza complicata soprattutto se prendo un dato che ha dato il Corriere della Sera stamattina entro il 2030 ci sono 5 milioni di case nel nostro paese da rifare un patrimonio immobiliare enorme nella stragrande maggioranza proprietario in molti casi di proprietà di persone che non hanno la possibilità di affrontare questo efficientamento ma soprattutto la cosa che insomma mi sembra importante è che buona parte cioè di nuovi edifici pubblici dovranno essere tali qui già vediamo qualcosa in materia di giustizia e di edilizia scolastica dovranno essere a impatto zero entro il 2028 dei ritmi molto serrati che ci fanno capire come indipendentemente dalla definizione che daremo di nuove generazioni è già da questa generazione che noi dobbiamo garantire diciamo così la transizione energetica non so se questa direttiva verrà approvata nei tempi che tutti dicono saranno molto rapidi già nel nostro paese diciamo così i partiti che in questo momento formano il governo hanno votato contro per motivazioni che a mio modesto avviso sono legate anche ai tempi molto ristretti e poi come si è detto anche prima in assenza di bonus il raggiungimento il raggiungimento di questi obiettivi mi appaiono particolarmente complicati e onerosi e mi fermo qui grazie grazie speriamo si blocchi questa bella iniziativa perché non dovremmo anche mangiare qualche volta oltre che pagare le tasse ci sono domande l'argomento gli argomenti sono vasti sono interessanti sarebbero tutti da approfondire ma i tempi sono questi prego può venire qui perché se no da lì non si sente e da Torino si lamentano che non venga 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 fai venire qui che rivediamo lei è uno studente immagino ha una faccia da studente infatti è giovane buongiorno la mia domanda era per per Orofino volevo farla prima esattamente come pensiamo noi come Unione Europea e anche come Stato Italiano perché comunque non dobbiamo dimenticarci che l'Unione Europea è formata dagli Stati di entrare nel mercato dei semiconduttori se non abbiamo né uno né l'altro anzi vorrei anche far notare che gli Stati Uniti non potranno mai non possiamo pensare neanche di usarli come fonte di approvvigionamento o come partner commerciale non lo dico io l'ho notato perché la Intel ha circa un anno fa venduto un brevetto di un di un microprocessore che pensava inutile o che comunque pensava non sviluppabile alla Snapdragon e la Snapdragon l'ha l'ha sfruttato a suo vantaggio e tant'è vero che la Snapdragon è destinata nel tempo a diventare la maggiore azienda di microprocessori nel mondo tant'è vero che anche adesso si vede è molto più presente nel mercato questo Snapdragon di dove è cinese 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 giustamente e altra cosa che imprese vi sarebbero a livello europeo in grado di entrare nel mercato dei microprocessori dove e innanzitutto e altra domanda dove viene stabilita la futura produzione dei microprocessori cioè in che paesi si si comincierebbe perché vorrei anche fare non vorrei che poi vengano a nascere future un aumento di disuguaglianze certo grazie prego professor Ruffino risaposto allora lei pone delle domande assai interessanti che meriterebbero un approfondimento che forse anche per esigenze di tempo non ci possiamo permettere fino in fondo allora però io una cosa la vorrei dire a lei perché questa obiezione che lei fa in realtà viene fatta molto spesso rispetto a quest'iniziativa della commissione von der Leyen di provare a far entrare l'unione europea in questo mercato in cui l'entrata sembra assai difficoltosa e la prima osservazione è questa si tratta di un'impresa quasi impossibile ma ancorché quasi impossibile deve essere tentata compito della politica e da questo punto di vista la commissione von der Leyen ha riportato al centro tutto ciò è mettere in campo strategie complesse per risolvere problemi che non appaiono risolvibili io non ho la sfera di cristallo quindi non sono in grado di dirle perché altrimenti avrei già comprato le azioni delle società e no ovviamente no che producono se questa strategia avrà successo o no ma è obbligatorio perché senza questa strategia l'ineluttabilità del declino non può essere nemmeno non è non è possibile immaginare alcuna alternativa a un declino che appare ineluttabile e a un rischio geopolitico di marginalizzazione quindi vedremo la quantità di risorse i programmi europei destinati a questo sono particolarmente ingenti così come i finanziamenti che verranno attribuiti sulla base di bandi competitivi a quelle imprese europee già esistenti o che si vorranno costituire per partecipare non solo fabbriche o fonderie aperte già esistenti ma anche nuove nuove aggregazioni industriali da questo punto di vista l'Europa ha una storia anche di sviluppo industriale tumultuoso laddove le condizioni economiche e quelle politiche incontrano delle congiunture favorevoli quindi proprio perché lei è uno studente io le vorrei dire questo non pensi che la realtà sia immodificabile anche perché quando parliamo di Cina dobbiamo fare i conti con prospettive future che noi non possiamo prevedere non le possiamo prevedere per noi a maggior ragione non le possiamo prevedere per paesi che appaiono molto stabili ma che non è detto che lo siano guardate solo come è cambiata la prospettiva della Russia in pochi anni quindi quando noi ci confrontiamo con sistemi che non sono simili al nostro è difficile fare previsioni a lungo termine perché noi non conosciamo la tenuta reale di questi sistemi poi potrei dirle tante altre cose cioè quando è che gli operai cinesi inizieranno a protestare lei non era ancora nato ma noi ci ricordiamo la repressione di Tiananmen questi regimi sono regimi che appaiono fortissimi e destinati a un futuro radioso ma non è detto che accada questo la storia dimostra che non è sempre così quindi rispetto agli scenari futuri noi dobbiamo fare questo tentativo se avrà successo o no non lo sappiamo molto interessante la seconda domanda dove verranno localizzate e qui entrano in campo gli stati è del tutto evidente che se ci saranno dei bandi competitivi per costruire le gigafactory ci sarà una competizione tra gli stati europei competizione nel beauty contest per ottenere questi finanziamenti rispetto a questo è del tutto evidente che se noi non ammoderniamo altre strutture del nostro tessuto produttivo ad esempio quello ferroviario i porti su cui tra l'altro però ci sono stati investimenti considerevoli nel PNRR noi non abbiamo tutte queste possibilità di vincere il beauty contest non porteremo per dire una gigafactory in Abruzzo se per arrivare da Pescara a Roma ci vanno tre ore e se il porto di Pescara è chiuso perché è più o meno adesso ho fatto l'esempio di Pescara ma abbiamo porti molto più sviluppati che però hanno bisogno di ammodernamenti quindi qui è inevitabile che ci sarà la competizione tra gli stati europei ed è altrettanto inevitabile che se la politica italiana non sarà in grado di dare delle risposte accettabili noi perderemo anche questa partita però questo è il livello degli stati poi naturalmente in questi beauty contest si cercherà di dare saranno costruiti i finanziamenti sono sempre costruiti in maniera tale da dare alle diverse aree dell'Europa cioè non saranno tutte in Germania queste fabbriche anche se il loro luogo ideale sarebbe quello esatto anche in Italia ma sicuro ma ora bisogna poi capire che tipo di gigafactory se produce un milione di pezzi o dieci milioni l'anno la scala dipenderà anche dal tipo di contributo che viene richiesto e conteranno i costi del lavoro e anche qui i costi del lavoro in una parte consistente dell'Europa sono molto più competitivi rispetto a un'altra però l'Unione Europea quando fa questi progetti è più basso rispetto in Germania però rispetto per dire alla Croazia è molto più alto rispetto a Romania è estremamente più alto quindi ci sono una serie di variabili però questo è lo spazio delle politiche nazionali e la competizione è necessaria in questo senso poi però va detto perché io non ho potuto raccontarvi tutto il il Microchip Act che le Gigafactory sono una parte della strategia a cui si accompagna un mercato centralizzato degli acquisti quindi la produzione l'installazione della fabbrica avrà un impatto sull'occupazione ma la produzione che verrà realizzata sarà in larga parte messa in comune possiamo immaginarla come l'idea di avere una nuova comunità europea ovviamente non si rispezzetta l'Unione Europea ma l'idea è la messa in comune della produzione dei microchip come quando si costituirono l'idea era mettere in comune l'acciaio e l'energia atomica ovviamente la questione dell'occupazione dell'indotto è strategica per gli stati nazionali ma le riforme le devono fare i paesi membri dell'Unione Europea le riforme istituzionali e quelle del del tessuto produttivo e quelle sono una competenza della politica interna c'è un'altra domanda tutto tace allora io darei l'incarico alla professoressa Marchetti questa Ateneo che forse molti di voi conosceranno perché vi ha bastonato agli esami e chiuderà questo imposto estremamente simpatico direi piuttosto efervescente e anche in un'integgerazione grazie 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 a Paola grazie anche per l'invito grazie al centro studi sul federalismo che ci permette di portare avanti sempre queste iniziative molto interessanti data l'ora tarda e dato che molte cose sono state dette da chi mi ha preceduto mi limiterò a compiere alcune riflessioni conclusive in particolare soffermandomi su tre aspetti allora i colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato appunto del Green Deal come il primo atto fondamentale dell'Unione Europea che si muoveva nella direzione diciamo della transizione ecologica ed energetica e quindi a questo proposito volevo brevemente spiegare perché il Green Deal costituisce un punto di rottura poi il secondo punto che volevo affrontare è quello diciamo del trend di attuazione del Green Deal quindi dei momenti di stop and go oppure go and stop forse meglio dire nell'attuazione delle politiche del Green Deal per poi vedere diciamo poter intravedere quale futuro potrà avere diciamo l'attuazione del Green Deal anche ovviamente e soprattutto in considerazione delle ormai prossime elezioni del Parlamento Europeo quindi primo punto perché il Green Deal diciamo costituisce un punto di rottura rispetto al passato perché cambia la prospettiva sulle politiche ecologiche e energetiche appunto inserendosi in una nuova prospettiva rispetto a quelle che erano le tradizionali politiche ambientali così come definite dai trattati che pure erano previste come è stato detto dal collega Orofino in primo luogo il primo aspetto diciamo che costituisce un punto di rottura è che c'è un approccio diverso alla valorizzazione della tutela di tutti gli elementi ecologici quindi clima ecosistemi biodiversità sono tutti termini che noi diamo un po' per acquisiti ma consideriamo che sono termini che non sono contenuti nei trattati europei ma per la prima volta vengono diciamo introdotti in questo nel Green Deal e sono anche dei termini che ha ripreso la nostra riforma costituzionale del 2022 in cui appunto si parla di tutela dell'ambiente delle biodiversità e degli ecosistemi ora non sto a aprire il capitolo sulla polemica dell'utilizzo di queste tre nozioni ma vi posso dire che l'utilizzo di queste tre nozioni è anche funzionale per avere un aggancio poi nel quadro diciamo normativo europeo l'altra l'altra novità è che la tutela dell'ambiente è maggior finalizzata rispetto a quanto è previsto dai trattati alla salute e il benessere dei cittadini e delle generazioni attuali e delle generazioni future quindi l'idea che per la prima volta viene messo in un atto importante viene scritto in un atto importante è quello che anche le generazioni che verranno dopo di noi avranno dovranno godere degli stessi diritti e vedere soddisfatti i propri bisogni e anche in questo caso la nostra costituzione con la riforma prima citata del 1922 ha introdotto appunto questo principio come lo ricordava anche l'avvocato Salvemini della tutela delle future generazioni in terzo luogo un altro aspetto molto importante è come si pone il tema dell'ambiente rispetto al tema diciamo dell'economia e della società e questo è importante perché il rapporto ambiente economia si pone in modo diverso rispetto al passato questo è proprio uno dei punti di rottura del Green Deal perché secondo i trattati europei si intravedeva uno sviluppo economico sostenibile che avrebbe permesso un miglioramento della qualità dell'ambiente attraverso ad esempio un uso razionale delle risorse invece nella nuova strategia europea si va oltre questa visione perché si parte da un nuovo approccio da un diverso approccio posto che la tutela degli ecosistemi è funzionale alla salute degli individui e può portare dei benefici all'economia il Green Deal diciamo è travisto anche come diciamo volano per l'economia non è solo lo sviluppo economico che deve essere sostenibile ma anche gli ecosistemi stessi e anche diciamo le politiche sociali devono essere sostenibili quindi possiamo dire che c'è uno stretto legame tra la tutela ecologica una diversa concezione di sviluppo che deve essere considerata nelle diverse declinazioni sviluppo economico ambientale e sociale e di conseguenza la transizione ecologica è considerata come diciamo uno strumento per diciamo creare un modello di società più equa giusta e solidale quindi sostanzialmente questo comporta delle politiche pubbliche sia a livello di Unione Europea sia a livello interno che appunto coniughino siano in grado di coniugare le diverse esigenze sia ecologiche ma anche economiche e sociali ne deriva quindi che la questione ecologica di sviluppo economico e come diciamo si può dire di sviluppo sostenibile appunto nelle tre declinazioni che abbiamo visto e sociale costituiscono diciamo vanno sono tre aspetti che vanno ad integrarsi in un'unica finalità diciamo che in questo quadro del Green Deal del 2019 va a inserirsi come è stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto purtroppo la grave crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina e quindi si è in parte rallentato e qui vengo un po' al secondo punto diciamo di attuazione del Green Deal e dei momenti di stop and go si è in parte rallentato il processo avviato dal Green Deal soprattutto per quanto riguarda diciamo le politiche più dirette alla tutela ecologica perché ci si è concentrati maggiormente invece attraverso l'adozione del Repower You sul versante diciamo del sul versante energetico ora non mi soffermo su questo punto perché coloro che mi hanno preceduto ne hanno già parlato ma vi ricordo solo che con la possibilità aggiungo che ogni Stato potesse introdurre nei propri piani diciamo nei PNRR un apposito capitolo appunto riguardante il Repower You cosa che ha fatto anche il nostro paese appositamente dedicato al settore energetico l'obiettivo è sicuramente quello dell'efficienza energetica e dell'indipendenza da parte degli stati europei nei confronti di alcuni stati in particolare dalla Russia ma l'obiettivo non è soltanto energetico ma anche in questo caso è in stretta connessione con diciamo anche la transizione ecologica quindi sono ripresi cioè l'idea di fondo è quello di mettere fine all'utilizzo dei combustibili fossili e quindi si inserisce appieno tra gli obiettivi anche del Green Dean quindi a volte magari sul giornale abbiamo letto che c'è questa nel momento in cui è stato approvato Repower You si è detto però in questo modo l'Unione Europea diciamo predilige il tema dell'energia della transizione energetica rispetto alla transizione ecologica in realtà così non è perché le due cose dovrebbero andare diciamo di pari passo terzo terzo tema la conclusione di questo dibattito alcune breve riflessioni scusate se vado un po' per spot ma data l'ora e date che molte cose sono già state dette sto cercando un po' di trarre delle conclusioni di trovare un po' il filo rosso di tutto quello che è stato detto dicevo delle breve riflessioni sulle prospettive future della transizione ecologica ed energetica diciamo che si possono individuare ovviamente anch'io non ho la sfera di cristallo quindi è difficile considerare quale potrebbe essere il futuro da un lato posso sicuramente dire che si tratta di un processo irreversibile quindi è impossibile che si torni indietro del tutto certo abbiamo avuto dei momenti ripeto di stop and go e in futuro avremmo bisogno di alcune condizioni necessarie affinché questo processo sia portato avanti in primo luogo sarà indispensabile ovviamente come voi capite bene che l'Unione Europea adotti delle opportune politiche ecologiche energetiche ponderandone bene e accuratamente gli effetti perché perché queste politiche non possono non dovrebbero imporre degli eccessivi sacrifici sociali quindi qua si arriva un po' al tema transizione ecologica e adeguamento anche alle esigenze sociali quindi sulla base di questa riflessione di questa necessità è ipotizzabile che possa essere anche modificato in parte il Green Deal soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti o le tempistiche di attuazione certo senza però arrivare a smantellarlo ora la tendenza attuale che voi avrete sicuramente notato dalla lettura dei giornali è che molti attori politici che all'inizio nel 2019 avevano fortemente sostenuto la commissione la presidente von der Leyen nel questo processo di elaborazione del Green Deal e quindi negli anni passati forti convincitori di questo atto poi hanno evidenziato i rischi per l'economia e per la tenuta sociale dell'Europa e hanno proposto alcuni attori sociali addirittura una vera e propria cancellazione ed altri una modifica o una mitigazione degli effetti o una revisione delle tempistiche di attuazione e in questa direzione abbiamo possiamo dire che abbiamo dei segnali di quello che è stato definito come diciamo una sorta di diciamo battuta di arresto del Green Deal o cosiddetto Green Lash quindi diciamo come un arresto una frustata alle politiche verdi mi limito ad alcuni esempi alcuni paesi europei come la Francia come la scusate la Germania e la Svezia hanno dimostrato negli ultimi periodi una resistenza all'attuazione delle politiche ambientali quindi qua abbiamo già un primo dato un secondo elemento indicativo è che il Partito Popolare Europeo moderato di centrodestra ha appoggiato i conservatori riformisti europei di estrema destra nel contrastare alcuni elementi abbastanza importanti dalla legislazione Green compresa la cosiddetta Natural Restoration Law proposta di regolamento che prevede il ripristino di almeno 20% degli ecosistemi degravati entro il 2030 e tutti i siti che necessitano di ripristino entro il 2050 altrettanto indicativa di questa tendenza a rivedere il Green Deal è il fatto che proprio pochi giorni fa la presidente von der Leyen ha ritirato il cosiddetto regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che era stato presentato nel giugno 2022 che aveva l'ambizioso progetto di dimenzare i pesticidi entro il 2030 e diventarne totalmente l'uso in alcune aree sensibili il ritiro di questa proposta da molti è stato considerato come una battuta d'arresto del Green Deal ed è stato determinato dal fatto che fin dall'inizio è stato oggetto di profonde divisioni e più di recente diciamo molto criticato è oggetto anche delle proteste degli agricoltori in molte in molti in gran parte dei paesi dell'Unione Europea ancora la commissione ha deciso di rinunciare a una regolamentazione sul sistema di alimentazione sostenibile preferendo invece portare avanti un dialogo più proficuo con gli agricoltori ancora abbiamo la recente approvazione del regolamento di esecuzione che concede un'esezione temporanea di un anno per gli agricoltori europei di mantenere una certa quantità di terreno incolto o non produttivo quindi sostanzialmente possono essere dei segnali di un arretramento nell'attuazione del Green Deal però dobbiamo anche tenere conto che siamo a fine legislatura quindi è difficile capire se in realtà l'Unione Europea ha voluto un po' rallentare anche ovviamente su spinta delle istanze sociali e delle proteste degli agricoltori o se invece si tratta di una fase diciamo così momentanea siamo a fine legislatura quindi sono importanti due condizioni e veramente vado a terminare è importante che da un lato sono importanti gli esiti che avremo dopo le votazioni europee è importante anche che venga quindi confermata la volontà di dare attuazione al Green Deal molto importante a mio avviso sarà il fatto se verrà o meno confermata come pare la presidente von der Leyen perché appunto l'abbiamo chi mi ha proceduto ha ricordato che diciamo e grazie anche alla volontà di von der Leyen che si è fatto passi avanti in questo in queste tematiche il rischio il rischio paventato se manca la volontà o se si arriva a una forte radicalizzazione dal punto di vista politico per cui una maggioranza diciamo non Green il rischio paventato è quello che quello che di cui oggi abbiamo parlato queste due tematiche della diciamo transizione ecologica e transizione energetica che devono andare necessariamente di pari passo e noi oggi quale abbiamo trattato insieme c'è il rischio che vengano un po' spacchettate perché mentre sulle politiche energetiche è difficile che si facciano dei passi indietro e diciamo che trovano un più largo consenso sulle politiche diciamo più prettamente di tutela della della biosfera e degli ecosistemi potrebbero esserci degli arretramenti abbiamo visto quegli atti che appunto su cui ci sono state delle battute di arresto quindi ovviamente bisognerà trovare necessariamente un punto di equilibrio tra le forze politiche e tra le diverse esigenze diciamo economiche politiche anche sociali per evitare delle fratture sociali che potrebbero avere anche delle conseguenze imprevedibili e tuttavia mi sento di dire per concludere questa giornata che sarà proprio questa la sfida del futuro tutelare gli elementi ecologici come una condizione imprescindibile per realizzare anche i diritti fondamentali degli individui e garantire il benessere delle generazioni presenti e future nonché quella che è la sopravvivenza dell'umanità quindi la posta in gioco è veramente importante grazie gloria grazie perché hai fatto una faticosissima ricostruzione no no però mettendo i puntini sugli istituti di vari settori grazie perché sei stata molto brava e allora noi ci salutiamo vi ringrazio per essere venuti ci vediamo mercoledì prossimo per la chiusura dei seminari è importante questa settimana prossima perché abbiamo i valori europei quali sono i valori europei fondanti abbiamo un giurista di grande peso un giurista spagnolo che parla italiano meglio di me e poi noi che parteciperemo attivamente quindi ci vediamo la settimana prossima grazie grazie a tutti i partecipanti grazie a tutti